Ben tornati al Caffè Amaranto, nuova puntata di A Tutto Campo con Mr. Luca Magnanetti Buongiorno, grazie Poi ritroviamo Paolo Bertini Grazie Fabio, ben invito, ciao Grazie a te, consigliere comunale in questo momento ma soprattutto da sempre uomo di sport e di calcio vicinissimo ai colori Amaranto C'è stato questo pari, non so rispetto ad altri che hai visto in casa Poi ovviamente parleremo anche di tutte le questioni che sono d'attualità a livello del dibattito di questi giorni A livello societario, sabato c'è stato l'atteso CDA dopo i segnali di distensione che c'erano stati Anche nell'intervista che aveva fatto alla Cava settimana scorsa Pare che però siano rimaste un po' le posizioni quelle di partenza Comunque ritorno sulla partita invece con il mister che deve parlare di partita Rispetto ad altri pari che hai visto in casa Col fatto anche che mancava Bruno Oggi Quindi sicuramente diverso dagli altri Come hai visto la squadra? Incontravamo una squadra tosta perché il Novara, non scordiamoci Erano delle candidate a ripescaggio in Serbì Quindi una squadra arcigna, esperta Ha cambiato l'allenatore da 15 giorni Poi ha preso un allenatore come Sannino che ha navigato Che conosce bene la categoria e soprattutto come risolvare le squadre Secondo me è un buon punto È un buon punto tutto sommato perché Sì è vero si sono divisi i tempi le squadre Rezzo forse è meglio nella prima frazione Il Novara nella seconda anche se non è stato mai così incisivo E anche fortunato nell'azione del gol Però c'è da ricordare che nel primo tempo hanno avuto un'occasione grossissima Sbagliata clamorosamente Non so se era Gonzales o non mi ricordo chi era A tu per tu col portiere tirato alto Noi avevamo fatto veramente poco Se non succedeva il rigore credo che sarebbe finito 0-0 al primo tempo Poi nel secondo tempo loro si sono un po' alzati con il baricentro Ha cambiato anche un assetto tattico due o tre volte Fino a che non sono arrivati al pareggio Poi si sono rimesi 4-4-1-1 Però abbiamo avuto anche l'occasionissima con Rolando Lì è stato fortunato il loro portiere Che insomma la palla ha preso un giro che normalmente non prende Però è stata fuori Sì direi tutto sommato Un pareggio che rispetto ad altri Rispecchia pienamente l'andamento della gara Però ho visto un Arezzo in crescita In crescita rispetto alle ultime gare Dal punto di vista del gioco soprattutto E quello mi fa ben sperare Perché abbiamo visto De Fraseci in velocità un tocco Schiacciando l'avversario nel problema di metà campo Speriamo che sia un buon segnale Considerando che siamo nei play-off matematicamente se non erro E quindi a questo punto possiamo lavorare per stare su con tranquillità E giocarsi tutto quello che ci possiamo giocare In una giornata in cui hanno fatto fatica tutte Perché a parte Lentella Tutte le altre C'era anche lo scontro diretto tra Provercelli e Siena Finito anche questo in parità Il Pisa che non è riuscito a vincere con la Lucchese Giusto per fare alcuni esempi Quindi è un campionato difficilissimo È un campionato difficile, molto livellato E devo confermare insomma anche quelli che sono i commenti generali Il gioco dell'Arezzo a tratti è davvero di un'altra categoria In termini proprio qualitativi Nel secondo tempo, ne parlavamo prima della trasmissione C'è stato dei fraseggi che non appartengono a questa categoria In velocità, scambi di prima Che hanno fatto presentare prima Buglio e poi Rolando Al tiro per quanto riguarda Buglio da fuori aria Rolando invece si è presentato davanti al portiere Che ripeto, sono scambi che non appartengono a questa categoria Quindi gran merito va dato ad Alcanto che ha insistito Ha dato un'identità ben precisa a questa squadra Che poi ovviamente ha delle pecche Che insomma altrimenti non saremmo qui a discutere Se della seconda o terza posizione Ma saremmo davanti senza rivali direi Quindi gran merito E anche io sono del parere che la squadra è in crescita Perché secondo me Sabato ha fatto una buona partita Al cospetto di una delle più forti squadre del Girone Perché davanti io sfido a trovare un reparto avanzato Che abbia le stesse qualità del Novara Sì, anche contenuto abbastanza bene nel primo tempo Poi nel secondo le cose sono un po' cambiate Però alla fine la tenuta difensiva della Rezzo è stata comunque buona Sì, sì, assolutamente sì Anche perché considerando le defezioni che c'erano La Rezzo si è comportata discretamente bene Abbiamo ogni tanto delle amnesie sempre Nel solito lato destro È un problema tattico sicuramente Però siamo stati bravi a contenerli Perché i clienti erano veramente tosti Caccia su tutti È giocatore che ha sempre segnato a valanga Aveva segnato su rigore nella vittoria con la Provercelle Poi riescono a usare molto bene il fisico Hanno ormai questa malizia da attaccanti veri Dove se trovi un difensore un po' morbido Come si dice, lo uccellano E quindi merito alla Rezzo Che non solo la difesa, anche il centro capo ha fatto buon filtro La squadra è stata sempre abbastanza corta Nelle misure giuste A dispetto del Novara che spesso e volentieri si allungava E quindi bene così Bene così E ora prepariamoci per andare a Carrara Che è lo stadio dove, come ricorda, qualche quotidiano È quello appunto della battaglia totale Quella che aveva invocato dal canto Allora ascoltiamo sia dal canto che San Nino Abbiamo fatto un bel primo tempo sotto tutti i punti di vista Sia del palleggio sia del fatto di poter produrre situazioni per fare gol La squadra è stata pure veloce nel girare la palla Quindi sono stato contento Poi nel secondo tempo si sono messi come noi E ci hanno creato qualche difficoltà in più Come normale che sia Perché dopo la parità di modulo Conta tanto la qualità dei calciatori in campo Le loro qualità ce ne hanno tanta E quindi ci possono creare qualche fastidio Alla fine però abbiamo concesso due situazioni di pericolo su due palle ferme Dove soffriamo cronicamente ormai dall'inizio del campionato Però ci siamo anche costruiti due o tre palle e gol importanti per poterla vincere Poi loro si sono messi pure a cinque Quindi questo testimonia pure il fatto che stavamo bene Spingevamo Accettiamo il risultato del campo Ora l'ho fatto presente l'ultima volta che abbiamo giocato in casa con l'Olbia Tenteremo di ovviare nel miglior modo possibile la deficienza che ci abbiamo Senza che sia una scusante Alla fine al primo tempo siamo riusciti a palleggiare meglio che contro l'Olbia Qualche accorgimento è stato fatto al campo Quindi siamo riusciti a fare qualcosa di meglio E andiamo avanti tentando di rimetterlo nelle migliori condizioni possibili Detto al primo tempo siamo riusciti a giocare ugualmente Poi è normale che dovrebbe essere la normalità poter giocare su un campo da calcio E potersi allenare su un campo da calcio perfetto Perché in questo sport esige questo È come se uno che fa ginnastica facesse ginnastica su una palestra che ha i buchi Non la può fare Noi invece lo facciamo Tentiamo ad adeguarci La scelta di Zini che comunque quando è partito in rapidità E i loro difensori centrali pur bravi comunque sulla velocità potevano soffrire Che in effetti in alcune situazioni l'hanno fatto Andrea si è giocato la sua chance perché se l'è meritata È un giocatore di grande talento che oggi deve crescere, deve maturare, deve fare esperienza Queste partite di questo livello qua gli servono Deve stare tranquillo, allenarsi bene ed essere pronto quando viene chiamato in causa come è stato oggi La che c'è secondo in classifica che mantiene questo secondo posto solitare in attesa del risultato del Siena Diventa questo a questo punto l'obiettivo più alla portata? No, l'ho detto questa settimana qua Non andrei più per obiettivi O meglio, andrei per l'obiettivo che è settimanale Quindi la partita successiva Oggi noi ci prepareremo per affrontare la Carrarese nel miglior modo possibile Senza stare a guardare più Abbiamo una certezza sicura che è quella che disputeremo i play-off Poi tenteremo di farlo nella miglior posizione possibile Un altro match contro una squadra di valore Insomma perché il Novara era partito con altre ambizioni Nessuna squadra fino ad oggi ci ha messo sotto a livello di gioco No, però il calcio vive su tanti aspetti Alla fine fanno gol su un calcio piazzato che fa parte di una partita di calcio Io penso che più si andrà avanti, più si giocheranno partite delicate Più questi aspetti qua avranno un peso importante sull'andamento di una gara Quindi chi ce l'ha, giocatori o capacità di poter tirar fuori il coniglio dal cilindro Anche quando non gioca benissimo c'è un vantaggio Beh, è stata una partita a due volti Primo tempo dove il Novara non ha mai giocato Abbiamo visto giocare di più l'Arezzo Abbiamo giocato sempre nella nostra metà campo Però devo dire che abbiamo fatto un gran secondo tempo Dove credo che abbiamo lasciato anche lì qualcosa Per quello che aveva costruito l'Arezzo in primo tempo Qualcosa hanno lasciato anche loro, qualche situazione dentro l'area Ma nel secondo tempo non mi ricordo una situazione pericolosa da parte dell'Arezzo Mentre noi credo abbiamo lasciato qualcosa dentro l'area di rigore È una partita a due volti, credo che il pareggio sia risultato più giusto E il mio unico obiettivo era quello di vedere una squadra Al di là del derby che abbiamo fatto con Troppo Carcelli Dove è facile costruire la partita per tanti motivi È un derby, l'adrenalina, si viene un cambio di allenatore Ma per me la partita era questa E devo dire che vado a casa con un bicchiere a metà Cioè avrei voluto vedere la stessa intensità, la stessa voglia di fare E nel secondo tempo anche nel primo Ma mi sa che dobbiamo lavorare E dobbiamo capire che per arrivare a fare quello che noi vogliamo Anche sperando dopo Dobbiamo non partire dal secondo tempo ma tutta la partita Beh io prima di parlare dei playoff Penso sempre al prossimo allenamento che faccio E gli errori che abbiamo fatto E le cose buone che abbiamo fatto Da ricordare ai ragazzi e lavorare Sicuramente l'Arezzo è una squadra che arriverà E se la può giocare anche per il primo posto È una squadra che gioca al calcio In un campo che devo dire la penalizza Perché per le qualità dei giocatori dell'Arezzo Ma anche per i miei Credo che era più conscio un tappeto, un terreno Molto diverso da quello che abbiamo visto stasera Tutte e due le squadre ne hanno sofferto Però credo che alla fine l'Arezzo lo vedremo sicuramente E in Novara Per fare quello che aveva prefissato inizialmente E doveva lavorare ancora un pochettino più duro dell'Arezzo C'è stata la partita della partita con il pubblico? Beh io credo che ormai Io penso che ci sia sempre una sorta di rispetto Passare inosservati Sembra lasciare un po' di amaro in bocca Il fatto che io ovunque vado Voi per il mio modo di fare l'allenatore Di giocare con i miei giocatori Capisco anche il pubblico avversario Ma l'importante è che si resti poi sempre nel normale Finita la partita Una rivederci a tutti Alla prossima e ciao Di nuovo insieme Stavamo commentando durante la pausa Anche San Nino si è accorto Paolo della tenuta del campo del comunale Che evidentemente si nota Che cattive condizioni Si si nota e diciamo che l'Arezzo lo soffre più di altre squadre Perché facendo del fraseggio la propria arma principale È chiaro che nel momento in cui ti arriva una palla sporca Che rimbalza eccetera Magari il primo controllo non è felice È ovvio che ne soffri più di altre squadre Che magari giocano sulla verticalità Piuttosto che sul fisico Sulla palla alta Che magari hanno minori difficoltà appunto A giocare in quei tipi di terreni Ricordiamoci Cuneo Cuneo è stato l'emblema T'hanno presa sportellate sotto tutti i punti di vista Perché alzavano la palla E te chiaramente andavi in difficoltà Perché la struttura fisica dell'Arezzo Lo sappiamo fin dall'inizio Dal canto stesso lo ha più volte denunciato È una squadra che ovviamente lascia qualche centimetro Qualche chilo alle avversarie Quindi è ovvio che lo soffriamo Ma però insomma andiamo incontro a una stagione anche migliore Forse anche l'erba del comunale Magari riprende Quindi ci darà la possibilità Ci darà la possibilità di giocare in maniera diversa Dalle ultime partite Magari quelle che contano Speriamo almeno che sia così Secondo il tema che lo dice la classifica Che ancora non è la classifica quella reale Perché ancora delle squadre come la Pro Vercelli Hanno gare da recuperare L'obiettivo secondo posto può essere la portata Dal punto di vista della qualità del gioco sicuramente sì Non hai trovato mai squadre che ti hanno messo sotto Se non la partita di Vercelli Dove in effetti siamo un po' andati in difficoltà Ma ripeto nel secondo tempo Dal punto di vista fisico più che altro Perché ti hanno preso nei tuoi punti deboli La squadra può tranquillamente giocarsela fino in fondo Se soprattutto mantiene un animo sereno e spensierato Perché è quello poi che ti consente di arrivare a quelle mete In maniera ripeto abbastanza spensierata Se invece magari ti metti a voler cercare il risultato per forza Magari ad avere più pressione La piazza stessa dà più pressione Magari qualche lacuna potrebbe venire fuori Invece secondo me l'Arezzo è nella condizione migliore Per potersi giocare questa fine di campionato e i playoff Da mina vagante verso tutte quelle che invece versa Avevano preparato un campionato con ambizioni A luglio perché ricordiamo che noi abbiamo quattro squadre Che avrebbero dovuto fare il campionato di Serie B E altre che si erano attrezzate in maniera importante Per comunque giocarsela ai vertici Quindi siamo assolutamente davanti a molte di queste E con la condizione psicologica di giocarsela nel miglior modo possibile Cioè quella di non avere nulla da perdere Ma assolutamente tutto da guadagnare Comunque è una grande ammucchiata lì perché la classifica è cortissima Ti chiedo la scelta, cosa ne pensi della scelta di Zini Tu mi dirai che l'allenatore conosce bene perché segue Però voglio sapere dal tuo punto di vista E mi metto anche nei panni di Perzano Perzano si potrebbe chiedere Ma neanche quando manca Brunori gioco io No, una domanda me la farei Semplice risposta perché te l'avevo anticipato Nella trasmissione la settimana scorsa Ma no perché Perché mancando un giocatore come Brunori Ha necessità di avere un giocatore che abbia Le caratteristiche di rapidità Che in questo momento ha Zini Perzano sicuramente attraverso un periodo non felice A livello credo mentale Non tanto atletico Zini è un ragazzino brillante Svelto Che ha dimostrato Ne ispezioni di gara in cui è stato operato E utilizzato Che aveva dei doti notevoli Ha dimostrato Con quei marpioni che l'hanno preso a sportellate Di poterci stare Anche perché era una soluzione fisica Rispetto a Cutolo E a Rolando Diversa Essendo giocatori brevilini Quindi dotati di palleggio Ma non di fisicità Lui ha tenuto botta E era tenuta bene Tanto di cappello Credo che sia stato insieme a A Basit E a Serrotti Uno dei meglio in campo Nel primo tempo Assolutamente sì Poi sai Alla lunga Si è fatto sentire Il peso fisico Della difesa Del Novara Ma lui si è raccavato A egregiamente Secondo me Ha fatto veramente Veramente bene E come diceva Qualche Persona in tribuna Si sta facendo il callo Per il proseguo E dal canto Ha sottolineato Il gol preso ancora Su calcio Tra l'altro c'era una differenza Anche distanza fisica Quindi Dal punto di vista C'era fallo C'era fallo In attacco Da parte del Novara Forse molti non l'hanno visto Ma secondo me Era fallo in attacco Perché Ha trattenuto Uno startaglia Prima di prendere palla Esatto Se tu guardi Appena c'è stato Il primo rimpallo Lui Qui l'arbitro Però scusa Sentiamo un attimo Beh ci può stare Non è che Sono trattenute Che ci stanno In aria di rigore Che Però vengono lette Male in campo All'arbitro Non è che Devi essere nella posizione Più felice possibile Per E quindi perpendicolare E non risponde mai A quella Nel caso specifico L'arbitro si trova Dall'altra parte Quindi Non la può vedere Una trattenuta del genere La interpreta Come un Come valenza fisica No Vedi che il giocatore Proprio per la differenza Di stazza Riesce a A A Rimporre Diciamo La forza fisica Rispetto a E quindi Lasci andare Se non vedi un fallo Non è che te lo puoi immaginare Fischiare il famoso fallo Di confusione Che forse è peggio Che non Se vedi una cosa La fischi Se non la vedi Non la puoi Ripeto Immaginare In questo caso Probabilmente un fallo c'era O ci poteva stare Però insomma Non mi sentirei Di buttare la croce addosso All'arbitro Per quello che è successo Il primo È stata la prima partita In Serie C Con gli auricolari Nell'intervallo C'è stata anche C'è stata qualcosa Che non funzionava Per questo È la partita iniziata Con leggermente Con un leggero ritardo Pensi che sia Una introduzione utile? È assolutamente utile Perché mette in comunicazione Ora bisognerà vedere Come la utilizzano Perché sono strumenti È uno strumento Al quale questi arbitri Cioè Gli arbitri Da Serie C E gli assistenti Non sono abituati Quindi ci vorrà un periodo Di rodaggio Per arrivare Ad un utilizzo Ottimale Che mi ricordo Quando è stato introdotto Al Serie A Non è proprio rapidissimo Detto questo Però Forse Il primo fallimento Degli auricolari C'è stato Perché San Nino Francamente Insomma Cioè Se in una partita normale Dove ci sono gli auricolari L'allenatore Al limite Proprio per mancanza Di comunicazione Fra l'assistente L'arbitro Poteva permettersi Qualcosa di più Con gli auricolari Questo è inconcepibile Insomma Che poi San Nino È una persona Estremamente corretta In campo È uno fra i più corretti Non dice mezza parola Nei confronti dell'arbitro Quindi Dà disposizioni Ai propri giocatori Però resta il fatto Che ha giocato Praticamente Insieme al suo esterno Al suo esterno Destro e sinistro Rispettivamente Nel primo e nel secondo tempo Perché francamente Ha spinto la squadra Giocava A tutta fascia Praticamente Era Un quinto Di difesa Questo Capita E te lo dico Perché è capitato Spesso anche a me Che quando sei Nella transagonistica Fai qualche metro In più E non te ne accorgi Non è giustificante Sull'aspetto Di San Nino Ma è così Mi è capitato Più di una volta In carriera Che c'era Dicente accompagnatore Che veniva a prendermi Dicente accompagnatore Che l'assistente Perché la prima volta Lo richiami La seconda volta Lo richiami La terza volta Non si muove La tua area La devi rispettare Questo era Non per giustificare San Nino Ma può capitare A lui è capitato Un po' troppo spesso Ecco diciamo così Sentiamo Rolando Che ha fatto Vedere delle buone cose E poi anche Le altre interviste A Foglia No Ragionete Soddisfa a metà Perché comunque Eravamo partiti Col piede giusto Abbiamo fatto Un primo tempo Ottimo Abbiamo cercato Di impostare La partita Con il nostro Solito gioco Possesso Fraseggio Abbiamo messo In grossa difficoltà Una squadra Una squadra importante E quando siamo Entrati il secondo tempo Non lo so Abbiamo avuto Un attimino Magari quei 10 minuti 15 minuti Di calo Non so se fisico Mentale Comunque ci siamo Abbassati un pochettino E abbiamo subito Il gol Proprio Su una palla ferma Che magari può essere Un po' Magari Per la struttura fisica Per questi motivi qua E Non ci siamo comunque Abbattuti Abbiamo cercato Di fare la nostra partita Anche nel secondo tempo E abbiamo avuto Anche qualche occasione Peccato che la palla Non è entrata Però comunque Abbiamo fatto una partita Secondo me Una buona prestazione Un'ottima prestazione Ecco nel finale Hai avuto Anche tu la palla Per i tre punti Raccontaci Quella azione Un ottimo contropiede Eh no Me lo stavo già Me lo stavo già sognando Sotto la curva Un gol da tre punti Ho detto bellissimo Peccato che Quando ho alzato la testa Anzi il portiere L'ha già andato anche un po' giù Se non sbaglio E con la mano di richiamo L'ha buttata in calcio d'angolo Sarebbe stato bello Non è andata così Peccato Sarà magari per sabato Ecco un campionato Questo dimostra anche il Pisa Che non ha vinto con la Lucchese È un campionato difficilissimo Comunque Laghezzo è al secondo posto No no Infatti io non avevo seguito I risultati O meno Avevo seguito il primo quarto d'ora E sono rientrato Nell'esporto Ho visto che comunque Anche le altre squadre Hanno fatto fatica E Il campionato è questo Ogni domenica Non si sa mai Che sorpresa può venire fuori Noi continuiamo la nostra strada Siamo sempre lì E i conti li faremo poi A maggio Al 5 maggio Quando sarà finito il campionato Dove saremo saremo Ci dà delle belle risposte Perché secondo me Abbiamo fatto La gara che dovevamo fare Una buona gara Con personalità Soprattutto Contro una squadra anziana Di giocatori veramente forti Per la categoria Abbiamo ottenuto botta Al primo tempo Penso che abbiamo fatto Un'ottima partita Nel secondo abbiamo subito Quelle occasioni Che purtroppo ci Soffriamo di più Come corner Come punizioni laterali Essendo una squadra Non altissima Direi quasi bassa Andiamo un po' in difficoltà Infatti su una di queste Abbiamo preso gol Però Penso che come Carattere Come voglia di fare Anche di giocare Abbiamo fatto una buona partita Ecco Cento in Amaranto In campionato Insomma È un traguardo che Immagino ti renda orgoglioso Guardando al futuro Che traguardo Vuoi conquistare Con questa maglia Speriamo di farne Altri cento Dai Sono contento Sono fiero Di aver vestito Questa maglia Cento volte In campionato Quindi Speriamo ancora Di toglierci Tante soddisfazioni Spero di togliermi Anche io Con questa maglia Nella classifica C'è grande consapevolezza Anche della forza Di questo gruppo Perché a questo punto La posizione non può essere casuale Anche con il bel gioco Che la squadra mostra Sì Noi siamo Ma lo diciamo sempre Siamo un gruppo affiatato Ci vogliamo bene Veramente Siamo un gruppo Che vuole Vuole arrivare Poi è chiaro Che Che il campo Deve dare la sua risposta Però noi cerchiamo Di mettercela tutta E dare il massimo E speriamo Di fare Felici tifosi E anche noi stessi Ormai Sei qui da qualche tempo Questo gruppo Che peculiarità In particolare Secondo te Come arma Siamo spensierati Dai Perché siamo partiti Senza obiettivi Di grande Di grande portata Ecco Quindi siamo Siamo lì E vogliamo goderci E continuare a stare lì E dare fastidio A quelle su Perché Ce lo meritiamo Di nuovo insieme Qui dal Caffè Maganto E allora Adesso Parliamo un attimo Di questa situazione Un po' ingarbugliata E mi rivolgo a Paolo Anche ti chiedo Un parere Per come l'hai Seguita Chiaramente Dall'esterno Questa vicenda Perché comunque È una vicenda Che è oggettivamente Antipatica Soprattutto in una stagione Sportivamente Stupefacente E ormai È venuta fuori È venuta in piazza Sabato c'è stato Questo CDA Non ci sono state Posizioni ufficiali Tranne qualche Piccola battuta Di la cava Perché è stato deciso Il silenzio stampa Sia per La cava E ansemmi Hanno deciso Di comune accordo Di dire la luga Poi la cava Qualcosina ha detto Ha detto io Il 16 Pago il 79 Perciò Quello che mi compete Come se ne può uscire Perché sembra Che da questo CDA Sostanzialmente Non è venuta fuori Ecco quella Quella sorta di cordialità Ecco che Tra virgolette Che era immersa Un po' Sia dall'intervista Che abbiamo fatto Settimana scorsa Tutte e due Come si riesce Non lo so Francamente Rimane Rimane duro Privedere Quello che potrà Succedere Nel prossimo futuro Da questo punto di vista È anche difficile Interpretarla Questa situazione Perché è una situazione Assolutamente Atitica Qui c'è un C'è qualcosa Che non è tornato Fin dall'inizio Mi sembra di capire Anche se è denunciato Successivamente Rispetto a quando Si è generato Cioè c'è un Io leggo Leggo Le informazioni Che sono arrivate Dai due interlocutori Più che altro Per quello che riguarda Informazioni di La Cava E Pieroni Che sono poi quelli Che hanno Con più frequenza Esternato E poi leggo Anche quello Che mi dice O che ha detto Anselmi Qui c'è stato Un programma Condiviso All'inizio Dell'anno Sul quale Si è trovato Un accordo Anche economico Perché poi Quando si fa Un programma Il programma Viene fatto in funzione Anche delle potenzialità Economiche Che hai Cioè se due soci Si mettono a sedere E dicono di mettere Una sticella A un certo punto Perché vuol dire Che quel punto È tollerabile Noi abbiamo già vissuto Questa cosa Della sticella Che si alzava Nel corso Della scorsa stagione E francamente Ne siamo usciti Con le ossa Abbastanza rotte Non abbastanza Frantumate Non rotte Quindi se viene Condiviso Un progetto E si dà Una valenza economica A quel progetto Buona norma Sarebbe che il progetto Venisse rispettato Ma per effetto Poi della chiamata Economica Che l'alzamento Delle attese Ti porta Quindi leggo Che il Il budget Iniziale Era 2 milioni E 100 Poi arrivato Alla fine di luglio 2 milioni E mezzo Poi a consuntivo Nell'ultimo CDA Così ha detto Anselmi Della metà di gennaio Si arriva A 3 milioni E mezzo Considerato Che gli incassi Sempre per dichiarazioni Di Anselmi È intorno A 2 milioni E 2 2 milioni E 3 Venne fuori Uno sbilancio Di 1 milione E 1 milione E 2 Allora Questo va bene Se hai Una proprietà Che è disposta A mettere sul tavolo 1 milione E 2 All'anno Per fare un campionato E quindi È tollerabile Questa cosa Mi preoccupa Se a fronte Di questi importi Di spesa Poi non c'è La copertura O comunque Non si era fatto fronte Per arrivare A questa cosa Perché poi Quando si fanno I contratti a calciatori E l'arenzo di contratti Ne ha Diversi C'è un numero Che cresce In funzione Degli importi Dei contratti Io ricordo Perché l'anno scorso L'ho vissuto In prima persona Purtroppo Che l'anno scorso Siamo falliti Con un Consuntivo Di spesa Di 3 milioni E 200 mila euro C'era un costo Squadra Mensile Di 140 150 mila euro Forse Qualche cosa Di meno Quest'anno Siamo arrivati A 200 mila euro Costo squadra Al mese Quindi questo Significa che Ecco Quello che non capisco Francamente È come Uscendo da una situazione Di dissesto Fresca Dello scorso anno Quest'anno C'era una necessità Di arrivare Così D'emblè Al primo anno E di fare Un Un Progetto Così Importante Con una valenza Economica Così rilevante Per Io poi Non entro nel merito Delle valorizzazioni Dei calciatori Che poi In fondo all'anno Possono essere Ma prima Della valorizzazione Dei calciatori C'è da tirare fuori Questi soldi Perché questi soldi Servono durante la stagione E quindi Questo non riesco a capire Quella fosse la necessità Di fare Di creare Quest'attesa Così forte E di creare subito Al primo anno Della ripartenza Ricordiamolo Ci siamo iscritti A giugno Noi Anzi A luglio abbiamo avuto L'autorizzazione Appunto E l'iscrizione Ai campionati Se era necessario O indispensabile Fare Portare così In alto Questa sticella Ricordiamoci La sticella Dell'anno scorso Del presidente Ferretti Domandiamoci Se questa cosa Rientra In una cosa Normale O se invece È qualcosa Che in qualche modo Dovrebbe farci stare Attenti Anche perché Di questi periodi Stavamo vivendo L'anno scorso Una situazione Che sembra Lontanissima Ma che Era solo La cosa Che mi sconcerta Di più Ripeto Tutti siamo Tifosi Dell'Arezzo Non è che voglio Certificare L'attaccamento Alla squadra Alla maglia A questa squadra Di calcio Perché ovviamente Ognuno ha il suo percorso Io ho il mio E ho cominciato A andare a vedere L'Arezzo Da Veramente Da bambino Ero presente Quando l'Arezzo Retrocesse A Perugia Nel 3-2 Che Perugia Voglio dire È una cosa Tutti abbiamo L'attaccamento Però dobbiamo avere Anche un po' Di razionalità Nel capire Fino a dove Possiamo spingersi Perché poi è facile Fare Ripeto Spendere Fare le squadre Organizzarle In maniera Importante Per fare anche Campionati Importanti Ma poi c'è bisogno Anche dietro E noi avevamo avuto Anno scorso Un segnale Per cui andavi in giro per la città E tutti ti dicevano Guarda Mi raccomando Fate le cose che siano Stollerabili Che siano sostenibili E noi al primo anno Siamo andati già oltre Rispetto a questa sostenibilità Poi per carità Io non faccio i conti In tasca A nessuno Men che meno A Giorgio Lacava Del quale Al massimo rispetto Perché L'imprenditore Un imprenditore Una persona Che investe nel calcio Va assolutamente tutelata Sotto tutti i punti di vista Perché sono talmente rari Soprattutto quelli che hanno Una passione così Forte e sfrenata Dico Lacava Per dire Anselmi Che ovviamente È un aretino Quindi a maggior ragione È coinvolto in questa cosa Quindi noi dobbiamo Tutelare queste persone Che si avvicinano al calcio Tutelarle perché In qualche modo Lo rendano sostenibile Per gli anni a venire Perché se noi bruciamo Un presidente all'anno Non solo Facciamo un danno In generale al calcio Ma Lo facciamo poi Anche alla squadra Perché poi nel momento in cui Tu dovessi avere Un cambio di proprietà Ovviamente si trova A gestire delle situazioni Comunque difficili Ecco E questo La domanda che faccio Era proprio necessario Rientrare in una cosa Di questo genere Dopo quello che avevamo vissuto Non più tardi Di otto mesi fa Nove mesi fa Francamente Io avrei fatto Diciamo Personalmente Avrei preferito Che ci fosse Un progetto Economicamente Più sostenibile Magari più basso Dal punto di vista tecnico Non lo so Se poi i risultati Sarebbero stati diversi O meno Il campo solo Avrebbe potuto dare Una conferma a questo Però avrei preferito Che ci fosse Magari qualcosa Di diverso Io personalmente Poi capisco Che magari c'è qualcuno Che ambisce a vincere Quindi sta facendo Il tifo per questa cosa Ricordiamo che però Poi i conti Vanno pagati Sempre E siccome l'anno scorso L'ho avuto in mano Questi conti Dover rincorrere Le pendenze Che c'erano E andare In giro Per l'imprenditoria A retina A spiegargli Il perché Avevamo arrivati A questa cosa Non è facile Secondo te c'è un rapporto Perché se stiamo A quello che ha detto Pieroni Nella conferenza Sampa L'unica che c'è stata Su questo argomento Qualche settimana fa Lui ha parlato Di avanzo Di mercato Cioè lui dice Per quanto riguarda Il nostro mercato È in avanzo E quindi qui il problema È più alto Di mancati introiti Cioè non sembrerebbe Esterci Stando alle sue parole Il legame Tra la gestione La pesantezza Della gestione E anche le ambizioni Della squadra E il valore Quindi della squadra Il costo Allora io ti Riferisco solo Dati che ho Carpito in giro Che vanno ovviamente Interpretati E alcuni dati Che io invece ho Perché li ho presi In mano Io personalmente La scorsa stagione Abbiamo incassato Due milioni di euro Due milioni E non è poca cosa Un fatturato Di una squadra Di serie C Due milioni di euro Fra sponsorizzazioni Biglietteria Minutaggio Da parte della Lega Quest'anno Ha dichiarazione Di Anselmi Che ho sentito Recentemente Ha detto che I ricavi vanno Da due milioni e due A due milioni e tre Dipende anche dagli incassi Che probabilmente Verranno fatti Da qui Alla fine del campionato Quindi non mi sembra Che ci sia stato Un ridimensionamento Degli incassi Non so se qualcuno Facendo il budget Aveva pensato Che questi incassi Potessero essere Ma sarebbe stato Un budget Assolutamente Campato in aria Perché la storia Degli incassi Della società Già l'anno scorso È stata un'ottima stagione Dal punto di vista Degli incassi Sia di sponsorizzazioni Che di Ticketing Cioè di Biglietteria Quest'anno Abbiamo fatto meglio Hanno fatto meglio Nel senso che Hanno incassato di più Perché c'è più minutaggio Perché Gioca più giovani Perché c'è stata Una risposta diversa Da parte degli sponsor C'è stata una risposta diversa Da parte del pubblico Quindi questo è il target Sul quale Dobbiamo lavorare Se poi sopra Ovviamente Se questa sticella La si alza È ovvio che Non ci stai più dentro Insomma Ma non dipende dagli incassi Gli incassi sono assolutamente In linea Rispetto allo storico Che c'è stato E sullo storico Ti posso certificare Che è così Perché ripeto I bilanci della società Nella stagione 2017-2018 L'ho rivoltati Come un E quindi li conosco A memoria Questo è Quindi non è un fatto Di Di incassi Se poi mi dici Che la società Alla fine dell'anno Avrà delle plusvalenze Sul parco dei giocatori Io allargo le braccia Non lo so Non mi rendo conto Di questa cosa Ma ti ripeto Prima a valorizzare Queste plusvalenze C'è da tirar fuori i soldi C'è la fase In cui prevedi Che ci metti i soldi E poi alla fine Li puoi riprendere Se Se ti arrivano Appunto Queste plusvalenze Ma è un punto interrogativo Perché È ovviamente una cosa Che tu È virtuale Diciamo Metti che Basilt Si faccia male E in fondo al campionato Non abbia più la valenza O la pil Che aveva Almeno quanto dichiarato A gennaio Hai già avuto Una Una mancanza Quindi ci siamo messi In una situazione Che è Francamente Come dire Incomprensibile Ecco Dal mio punto di vista Incomprensibile Ti faccio una domanda Che credo ti permetta Anche di fare una precisazione Anche di fronte Ad alcune illazioni Che sono state fatte Sul web In particolare Tu dovevi avere Per caso Un ruolo In questa società All'inizio C'era questa ipotesi O nel settore Gevanile O addirittura Ruolo comunque Dirigenziale E quindi Te lo faccio dire Perché ovviamente Si sono lette Anche tra i commenti Insomma In azioni varie Quindi a te la parola Assolutamente no Assolutamente no Perché Tutti gli interlocutori Che hanno parlato con me Fin dal primo momento Sanno E sapevano Che io non posso Ricoprire alcun ruolo All'interno Dell'ambito federale Per il semplice fatto Che ho un contenzioso Con la federazione Che arriva dalla mia posizione Ormai Che in tanti conoscono Per cui io Finché duro questo contenzioso E non trovo un accordo Con la federazione Non posso essere tesserato Quindi non posso avere Alcun ruolo In nessuna società Chi dice queste cose O lo fa Perché È mal informato Ma non credo sia il caso Di coloro che scrivono Sotto pseudonimo In qualche In qualche sito Perché questa informazione Ce l'hanno Oppure hanno Magari un interesse diverso A veicolare Che qualcuno Parla dietro la società Parla male Come vedete Non parlo dietro la società Faccio solo presente Alcune difficoltà Che secondo me Già da luglio Dovevano essere riscontrate Perché quando Si pone Ripeto Determinati parametri Così in alto È chiaro che poi Durante la stagione Ti arriva la pendenza economica Che dipende Da quella sticella Dove è stata posta È un fatto matematico Non è che Se te Prendi dei calciatori Che questi calciatori Percepiscono stipendio È facile Fare una proiezione Da lì al 30 di giugno Sapere quanto devi andare a pagare Quanto sarà l'importo Che sarà necessario Per far fronte A quelle cose Quindi Chi scrive queste cose Francamente Ripeto Non lo capisco È animato Da interessi diversi O francamente Ma perché ripeto Queste informazioni Che ti ho detto adesso Che spero che Sia chiara Io non posso avere Alcun ruolo In federazione Finché non si chiude Questa cosa Con Del contenzioso Che io ho Con la federazione Quindi era Scartato a priori Scartato Anche nei primi colloqui Con la Cava Con Pieroni Con tutti quanti Io dovevo star fuori Da questo tipo di meccanismo Perché non Fisicamente Cioè Tecnicamente Non potevo assolutamente Figurare Quindi tutti quelli Che dicono Che in qualche modo Io sto fuori Perché ho il sedere bruciato Dal fatto che Non mi hanno preso In considerazione Dicono veramente Delle cose Senza senso La domanda è Perché lo fanno Che questo è un altro Paio di mani Infine ti chiedo anche Se vuoi dircelo Un tuo giudizio Perché la base Di una squadra Tutti dicono Tutti quelli che Vengono qua Abbiamo sempre sentito dire La base È appunto Un buon settore giovanile È fondamentale Per Diciamo Per il benessere Per la sanità Della società stessa Per dargli un futuro Sano Robusto Ci sono queste basi Secondo te? Il settore giovanile È un ambito Che conosco Abbastanza poco Vivo in città E quindi sento Le cose che arrivano Della città Accogliendo alcuni Aspetti Che sono macro Cioè Robe Diciamo Le informazioni Di massima E so Che c'è tanti giocatori Che arrivano da fuori Ed è francamente Contro Il principio Che dovrebbe animare Un settore giovanile Una squadra di Lega Pro Come l'Arezzo Cioè il fatto che Di valorizzare I giocatori Del territorio Perché sono quelli Che ti costano di meno Perché sono quelli Che hanno un'affezione Diversa Maggiore E che sono quelli Di prospettiva Il secondo aspetto Che ho notato È che alcuni calciatori Della scorsa stagione Che ripeto È stata Dal punto di vista Vista dal punto Del settore giovanile Proprio perché l'ho vissuta Perché i genitori Di questi ragazzi Si confrontavano Anche con me È stata No meritoria Di più Cioè questi ragazzi Si sono sacrificati Andando ad allenarsi Senza avere strutture Si sono andati Sono andati a giocare Le partite In giro per l'Italia Tassandosi Prendendo dentro i soldi Ecco io A quei ragazzi La riconoscenza Totale E completa Da parte della città Della società Avrebbe dovuto esserci Viceversa ho sentito Che molti di questi ragazzi Sono stati Sono andati via O perché non giocavano O perché comunque Messi nelle condizioni Di andare Da un'altra parte E anche questo È un segnale Che secondo me Non Non doveva starci Comunque che in ogni caso Questi ragazzi Ripeto Per la riconoscenza Al di là dell'aspetto tecnico Non me ne interessa Parlo dal punto di vista Da retino Siccome erano tutti i ragazzi Del territorio Di Arezzo Io mi sarei ricordato Di questi Proprio perché Si sono frugati in tasca E hanno mantenuto viva La società Ricordiamoci che se la società Avesse ritirato Le squadre giovanili Ci sarebbero state conseguenze Anche per tutto il resto Per l'affiliazione Per tutto quanto Terzo aspetto Dopo 30 anni Vedo che Umberto Benigni Viene via dal settore giovanile Non so le ragioni Non le voglio sapere Non le conosco Un altro segnale A me Francamente Di preoccupazione Ce l'ho Ecco Diciamo così Società che poi ha risposto Che è stata una sua scelta E questo Prendiamo atto Ma no Per carità Ma sicuramente Ci saranno state le condizioni Ma per tutti i tre aspetti Che ho detto In ogni caso Ci saranno delle motivazioni Io Vista da fuori Proprio perché Ripeto Non voglio entrare dentro Non conoscendolo Il settore giovanile Magari qui c'è Il mister Che ha una percezione diversa Una conoscenza diversa Della qualità Che viene espressa All'interno del settore giovanile Quindi non mi c'è dentro Quella roba Vedo questi tre aspetti Segnali che insomma Sono allarmanti Allarmanti no Diciamo che da retino Da retino Vissuti da retino E visti da retino In qualche modo Mi danno delle preoccupazioni O quantomeno Mi fanno pensare Più che preoccupazioni Siamo in chiusura Io ringrazio Paolo Bertini Di queste riflessioni Che alimentano Un dibattito di qualità Che è quello che ci interessa Quindi ringrazio Paolo Io ringrazio per la qualità Non sono parole In libertà Dette da Sì parole però Dette da una persona Però ecco mi preme Sì ma mi preme Risottolineare Quello che ho detto prima Al di là della chiusura Scusami si rubò 30 secondi Io ho vissuto Tutta la fase Dal marzo Dello scorso anno Con l'udienza Presso il tribunale Con la dichiarazione Del fallimento L'esercizio provvisorio Tutta quella fase Di costruzione Della nuova società E non l'ho mai fatto Pubblicamente Perché non ho avuto La possibilità Volevo ringraziare Tutti gli imprenditori Di Arezzo Tutti gli imprenditori Di Arezzo Che ci permisero In quel momento Di dare una risposta Tecnica Tecnica significa Con i soldi Alla risoluzione Di un problema Quindi se il giudice Picardi Autorizzò la gestione provvisoria È perché Gli imprenditori di Arezzo Insieme alla Cava Ed Anselmi Che è comunque Di Arezzo Avevano reso possibile Questa cosa Non l'ho mai fatto Dopo Nella seconda fase Devo ringraziare Anselmi E la Cava Perché hanno dato Continuità A quel primo investimento Quindi la gratitudine Mia personale Dell'amministrazione Che in qualche modo In quella fase Ho rappresentato Insieme al sindaco Era quella di ringraziare Questi due elementi Che sono Un patrimonio Della città Devono rappresentare Un patrimonio Della città Mi dispiace Mi dispiacerebbe Se In qualche modo Uno dei due O tutte e due Venissero messi in difficoltà Da un Come dire Un passo troppo lungo Rispetto a quello Che era possibile Per mettersi Non posso che chiederti Invece di Carraghesi Arezzo Che è una gara Che si gioca Le 14.30 Sabato Andiamo a giocare Nel sintetico In un campo Dove l'anno scorso Ci ha dato Una grande gioia C'è linea Nel fine Ci ha dato Una grande gioia Quindi terreno sintetico Arezzo squadra tecnica Loro squadra discreta Con un altro allenatore Molto focoso Stile Sannino Che già conosciamo Baldini Quindi Sono molto fiducioso Molto molto fiducioso La Piacenza? Non so se come la Piacenza Spero ancora meglio Perché lì Facemmo Non una gara perfetta Speriamo di farla Veramente perfetta Per dare un segnale Al campionato Importante Anche perché La domenica dopo Abbiamo appunto Il Piacenza in casa Al comunale Che non ci aiuta Diciamo così Grazie a mister Luca Magnenezzi Grazie a Paolo Bertini A presto Alla prossima